Le patatine conquistano il mondo in sacchetti di carta sigillate. Sempre più sottili e appetitose, oggi alcune patatine nascondono fino al 30-40% di grassi e potrebbero contenere più calorie della cioccolata. Delle semplici sfoglie di patate potrebbero diventare un cibo spazzatura, come altri cibi cui siamo affezionati. Ma in quanti sacchetti ci sono ancora le patatine di una volta? Grazie a tutti.